Assessore, a Pescara sbarca il progetto del Freer Floating, tanti monopattini da lunedì a disposizione della cittadinanza. Si, inizia una nuova era che attesta Pescara a fianco delle maggiori città italiane che hanno sposato il progetto di micromobilità, ricordo Milano, Torino, Roma, Bari, Verona, grandi città. Oggi a fianco a loro c'è anche Pescara, di questo siamo davvero orgogliosi come amministratori, ma siamo orgogliosi di aver dato un servizio nuovo, innovativo, alternativo a tutta la cittadinanza. Io quello che ricordo è che questo non è un giocattolo, questo è un dispositivo che deve essere utilizzato in maniera corretta, in maniera prudente, rispettando le regole, rispettando l'incolumità propria di chi lo utilizza e delle altre persone che vivono la città. Deve essere utilizzato per gli spostamenti casa lavoro, per raggiungere il nostro centro commerciale, per l'attività di tempo libero, col concetto del free floating. Da lunedì inizieremo con 250 mezzi in sharing per arrivare nei prossimi giorni a una capienza massima di 500 mezzi. L'utilizzo è molto semplice, bisogna scaricare l'applicazione di Elbitz, bisogna registrarsi e da lì si potranno vedere dove sono posizionati i mezzi. Come funziona e quanto costa? Il costo è 1 euro lo sblocco e 15 centesimi al minuto l'utilizzo. In più Elbitz propone un abbonamento mensile di 29,99 euro per un utilizzo illimitato dei mezzi su tutto il territorio nazionale, quindi non solo a Pescara. L'utente di Pescara con l'abbonamento potrà utilizzarlo anche a Roma, Milano, Torino, Bari e in tutte le città dove siamo presenti. Sono pattini che poi verranno lasciati nelle varie zone della città a disposizione di un nuovo utilizzatore. Certo, il servizio viene definito in free floating, ovvero a flusso libero, in quanto dentro un'area operativa che abbiamo concordato con l'amministrazione potranno essere utilizzati in maniera libera.